25 anni fa sono partito proprio da qui, il mio paese, e ho pensato a una banca costruita intorno alle persone. Banca Mediolanum è nata così e ora ha oltre un milione di clienti. È la banca che ha cambiato la banca e oggi può cambiarti la vita. Diventa Family Banker, un professionista di nuova generazione che porta questo nuovo modello di banca ai suoi clienti. È abbastanza per le tue ambizioni? Mandami il tuo curriculum. Banca Mediolanum, costruita intorno a te.